Il tuo consulente agrometeo ti dà il benvenuto su Agronotizie, il tempo previsto fino al 5 settembre. L'ondata di caldo in atto per colpa dell'invadente anticicolone nordafricano purtroppo sta interessando gran parte della penisola. Comunque l'ondata di caldo sarà meno intensa sicuramente di quella precedente e interesserà in prevalenza molte regioni del centro nord della penisola. L'apice del caldo è prevista per lunedì 28 agosto sulle seguenti regioni Piemonte, Lombardia, Basso Veneto, Emilia, Romagna, zone interne del centro, Puglia, Lucania e Isole Maggiore. Queste saranno le regioni più calde dove verranno superati i 34 gradi. Le regioni più roventi invece con punti di 36-37 gradi nella giornata di lunedì saranno l'est della Lombardia, l'Evilia, l'interno del Lazio, l'Umbria e la Sardegna. La durata dell'ondata di caldo sarà fino a venerdì di questa settimana, poi da sabato 2 a lunedì 4 settembre temperature in calo e che rientreranno nella norma con valori massimi intorno 28-31 gradi. E le piogge? Purtroppo solo temporali, martedì e venerdì su Alpi e Venezia, tranne le poste, sabato e domenica prossimi temporali solo su Alpi e Lombardia. Bene, termino qui. Un saluto ancora da Mario Giuliacci, dal pulsante sottostante puoi visualizzare le previsioni di casa tua.